La Tesa dei Tiepolo, antico rustico di pregio inserito nella tenuta agricola di Villa Tiepolo Passi, è un luogo avvolto da un fascino assoluto, dove organizzare un matrimonio indimenticabile è curato in ogni dettaglio dallo straordinario servizio interno di catering e banqueting. La Tesa dei Tiepolo è una struttura su due livelli, circondata da una nobile corte che, insieme al caratteristico portico e all'area esterna impreziosita da verdi giardini, potrà accogliere i vostri numerosi ospiti durante la bella stagione. All'interno, il piano terra e il fienile posto al primo piano sono spazi finemente arredati e confortevoli, dove potrete allestire il vostro banchetto per un numero considerevole di commensali in ogni periodo dell'anno. Questa location dispone di un prestigioso servizio di catering e banqueting, il quale si prenderà cura di definire ogni dettaglio del vostro ricevimento proponendovi menù personalizzati, allestimenti e un servizio di accoglienza sempre attento e cordiale. Il catering interno a questa nobile dimora farà scoprire ai vostri fortunati invitati i sapori autentici di una cucina legata agli antichi ricettari di casa, gelosamente raccolti e custoditi per dare nuova vita alle tradizioni culinarie di Tesa dei Tiepolo. Immersa nel fascino di un parco secolare tra antichi giardini all'italiana, risalenti al 700, questa dimora avvolgerà di prestigio e bellezza il vostro atteso ricevimento di nozze.